David Gentilcore è nato in Canada, oggi abita e insegna, abita Venezia e insegna storia moderna a Venezia, a Caposcari, dopo aver svolto attività di insegnamento e di ricerca in molti diversi paesi europei. È un tipico professore che ha lavorato a cavallo di moltissime istituzioni ed è arrivato a Venezia dopo aver vinto un ricco e prestigiosissimo finanziamento di ricerca europeo per una ricerca sulla cultura dell'acqua. L'acqua da bere, pratiche sociali, caratteri materiali come l'ingegneria idraulica e la legislazione relativa all'acqua. Ma ha svolto attività di ricerca veramente in moltissime università di tutta Europa. Io devo dire l'ho conosciuto moltissimi anni fa, non so quanti ma sicuramente tanti, David, a Leicester, quando io ero stata invitata come visiting professor al Center for Urban History, centro di storia urbana, e lui era allora professore di storia della medicina sempre all'Università di Leicester. È stato poi professore all'Università di Warwick, poi a Londra, al centro dell'Università di Harvard a Firenze, la Villa Itatti, per lo studio del rinascimento italiano. Ha vinto altri prestigiosi premi, lavorando molto sulla storia della medicina, in particolare dall'Ordine dei Medici di Salerno, un premio per un libro che ha pubblicato in cui parla di ciarlatani in medicina. Si è interessato di storia delle religioni nell'età della controriforma, delle religioni popolari. Si è interessato molto di storia della medicina e della salute, si è interessato di storia dell'alimentazione. Quindi capite che il suo arco di temi è abbastanza ampio, ma i diversi aspetti sono molto interrelati fra di loro. Noi l'abbiamo chiamato nel quadro delle nostre iniziative sulla storia dell'alimentazione, sapendo che lui ha in particolare lavorato sulla assimilazione di prodotti coltivati nel nuovo mondo, come il pomodoro, la patata, e poi appunto l'impatto del mais, che è l'argomento di cui parlerà questa sera, sulla società del nord-est della penisola italiana fra 1750 e 1930 e sulla conseguente diffusione della pellagra. Tema che ha visto coinvolta anche Venezia e in particolare l'isola di San Servolo con la questione del manicomio. Come vedete quest'ultimo è un tema che lega fra loro l'alimentazione e la salute e questo e quindi anche la malattia e questo è sicuramente un tema particolarmente presente oggi nella vita un po' di tutti. Un tema di grande attualità. Il titolo l'avete sotto gli occhi, matto di San Servolo, mais, pellagra e pazia nei manicomi veneziani del secondo ottocento. Grazie David, a te la parola. Grazie, grazie Donatella per questa bella presentazione e grazie anche dell'invito a fare questa lezione di storia. Come Donatella ha accennato, questa non è una storia del mais ma più uno degli effetti collaterali del consumo del mais durante il corso dell'Ottocento. Quindi per darvi una definizione di pellagra e del legame tra pellagra e pazzia pellagrosa propongo di cominciare con un esempio, un caso. Nel 14 settembre 1862 un dottor Filippini del manicomio di Feltre scrive al direttore del manicomio di San Servolo a Venezia e vuole trasferire un paziente suo che soffre di pazzia pellagrosa, detta anche follia pellagrosa. Io uso sempre i termini dell'epoca. Dunque questo malato che si chiama Domenico, Domenico G, per non dire il cognome, è un quarantenne, un contadino sposato. Nella primavera del 1861, questa lettera del dottore, ebbe spellature al dorso delle mani, al collo dei piedi e dall'apice del torace. Questa è la prima fase di pellagra. Poi l'autunno seguente cade in delirio. Questa è già la terza fase, questa pazzia. Nel marzo del 1862, perché fuggiva dalla famiglia e propendeva ad atti pericolosi alla propria esistenza, venne condotto ed accolto in questo nosocomio. E continua ai Filippini. Soffre di un disperato, incessante, clamoroso delirio. Si crede irreperabilmente dannato. E si batte rabbiosamente coi puni e vorrebbe togliersi la vita. La causa, secondo Filippini, il male della miseria, pellagra endemica. Al monocomio di Feltre si curano le lievi complicazioni gastriche, cioè la diarrea che accompagna la pellagra quasi dall'inizio. E si dà a Domenico un'alimentazione riparatrice. Tuttavia risulta impossibile dargli una sicura custodia, cioè è troppo pericolosa. E per cui il medico chiede il trasferimento al manicomio veneziano di San Servolo. Ecco qua, scusate, ecco, questa è una illustrazione dell'inizio dell'Ottocento di questa malattia della pelle, la prima fase. Poi, da cent'anni più tardi, una scena domestica di pazzia pellagrosa, che un po' richiama la situazione del povero Domenico. Quindi in questo periodo la pellagra è una malattia che viene percepito come un legame, un legame forte tra un'alimentazione a base di polenta, cioè un'alimentazione maidica, e questa malattia, con altri fattori in qualche modo che contribuiscono alla malattia. Cioè la miseria estrema, i lavori duri del contadino, con possibili altri fattori ereditari, per esempio. Una malattia che si osserva porta a diverse fasi che porta alla pazzia e infine alla morte. Questa fase della pazzia significa che i manicomi in zone dove si coltiva, dove si consuma il mais, sono condizionati dalla pellagra, dalla pellagra, dalla pellagra, la pazzia pellagrosa, scusate. E soprattutto nel nord Italia, pensiamo a Emilia Romagna, Lombardia e il Veneto. Gli ospedali piccoli, civici, non sono capaci di affrontare questa situazione e quindi cercano di mandare, di far trasferire i casi più gravi ai manicomi regionali che sono più preparati, come appunto San Servolo, San Servolo per gli uomini e San Clemente per le donne. E quindi questi due manicomi veneziani prendono pazienti da tutto il Veneto, dalle province di Belluno, Padova, Trevigo, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Udine, anche dalla provincia di Venezia naturalmente. Questa è una delle mappe che abbiamo fatto durante il progetto. Devo ringraziare il mio collaboratore al progetto, il dottore Gidio Priani, che adesso fa il psicoterapeuta a Mestre. Abbiamo avuto molte conversazioni tra di noi, io storico, lui essercente, insomma con molte esperienze a vivere, non situazioni di pellagra ma di malattie mentali. Ecco, la fonte che ho trovato sempre ricchissima ma anche tristissima è quella delle cartelle cliniche. Ci sono migliaia e migliaia di queste cartelle all'archivio di San Servolo e questa è quella del nostro povero Domenico. la cartella ci racconta mese, dopo mese, la sua condizione. All'inizio, per esempio, la sua disponibilità a prendere i medicinali che gli vengono prescritti, ma il suo rifiuto a mangiare, il rifiuto del cibo. racconta la sua aggressione iniziale, i suoi episodi di rabbia che necessitano l'uso della camicia di forza. Poi, come questi episodi diventano apatia totale con il paziente che si rannicchia in un angolo della stanza. Nel febbraio del 1863, qui sempre a San Servolo, le sue condizioni sembrano migliorarsi. Si vede Domenico che fa delle faccende domestiche, dorme tranquillamente, mangia bene, benché sia ancora taciturno. A marzo comincia a lavorare nell'orto del manicomio, questo fa parte della sua terapia, ma rimane sempre debole. Poi a maggio viene colpito da un raffreddore e da una febbre eccito dalla cartella così intensa che sembrava malato di colera. Diventa sempre più taciturno, letargico, melanconico. I familiari preoccupati chiedono le sue dimissioni e il suo ritorno a casa. Ma la presenza di Domenico a San Servolo finisce su questa nota triste e forse vedete la crocetta in fondo alla cartella. Morto da gastroepatite il giorno 9 febbraio 1865, alle ore 1 pomeridiane, dopo anni 2, mesi 4, giorni 25 di degenza. Il caso di Domenico ci fa come introduzione al tema di Pellagra e soprattutto la pazzia pellagrosa e le tre fasi. In un certo senso vorrei dividere la mia presentazione in queste tre fasi. Cioè la prima fase il ricovero, poi dirò qualcosa sulla degenza, sulla cura offerta a questi malati a San Servolo e a San Clemente. E poi concludiamo con le dimissioni, il ritorno di questi pazienti alla società. Oppure un fine finisce con la morte. Ecco questa è l'altra possibilità. Ma cominciamo con il ricovero. Cominciò con una specie di introduzione alla malattia perché la Pellagra ebbe effetti devastanti nell'Italia del secondo ottocento. La miseria non era solo la causa della Pellagra perché obbliga le famiglie a nutrirsi dell'alimento più economico, cioè polenta di mais, ma la miseria è anche l'effetto della Pellagra perché i membri della famiglia diventano incapaci a lavorare, a guadagnare. La Pellagra è una malattia ricorrente, cioè ogni anno c'è questo ciclo che magari durante i mesi invernali e primaverili, quando scarseggia il cibo, si mangia quasi solo polenta di mais. Poi con l'estate e l'autunno magari c'è più varietà e la malattia passa, però torna l'inverno prossimo. Ogni anno peggiora, cioè un ciclo, uno spirale verso il basso, diciamo, se le condizioni di vita non migliorano. Al caso di Lucia, Lucia P, rappresentativo figlia di genitori, ambedue pellagrosi, Lucia si alimenta di sola polenta e recita la sua cartella clinica. In ogni primavera, fin da ragazza, andò soggetto ad eritema pellagrosa. A quarant'anni fu accolta nell'ospedale d'Udine per malinconia. Negli anni successivi fu ricoverata per altre sei volte e sempre dopo circa quattro mesi usciva guarita. Secondo le stime ufficiali, negli anni settanta e dell'ottocento ci sono circa centomila pellagrosi in Italia, quasi un terzo dei quali nel Veneto. Però questi sono solo i casi documentati, si stima che la morbidità sia il doppio, se non di più. La proporzione di pazzi pellagrosi, la proporzione dei pellagrosi totali è più difficile a accertare, ma le stime dell'epoca danno una proporzione di 3%, quindi per centomila pellagrosi ci sono 3.000 pazzi pellagrosi, ma è sicuramente molto molto di più. Secondo il direttore del manicomio di Ferrara, Clodomiro Bonfigli, la pazzia pellagrosa è così diffusa nelle campagne che, e cito, in certi paesi del Veneto ho osservato che quasi tutti i pazzi contadini vengono comunemente detti pellagrosi, anche in mancanza di altri sintomi. Verso la fine del secolo assistiamo a un aumento sia nel numero di manicomi, sia nel numero dei malati che vengono ricoverati in questi manicomi. Un approccio fucodiano direbbe che questa è la professione psichiatrica dell'epoca, che cerca di dimostrare il suo potere, la sua influenza, ricoverando i malati. Però c'è anche un altro fatto, un fatto sociale, l'impaoperimento delle classi contadine durante questo periodo, e quindi dietro etichette astratte della scienza dell'epoca tipo cretinismo, alcolismo, imbecilità e anche pazzia pellagrosa, dietro questi termini c'è la miseria e la deprivazione sociale. E quindi dicevo che manicomi come San Servo e San Clemente vengono condizionati dalla presenza di pellagra e della pazzia pellagrosa. Giusto per dare una cifra, tra la fondazione di San Clemente che avviene nel 1873 e 15 anni dopo, ci sono qualcosa come 4.500 ricoveri. Quasi la metà sono pazzi pellagrosa. Questo è giusto per darvi un'idea della proporzione. Il manicomio in quest'epoca cerca di offrire una cura, cioè cerca di offrire un ordine morale nuovo e non di essere soltanto un carcere, più un ospizio per i malati. E quindi l'istituzione cerca di offrire, di diventare la cura, cioè l'istituzione stessa cerca di essere la cura, offrendo uno spazio, un habitat particolare. Anche se in quest'epoca rimangono, cioè rimane questo pensiero espresso da uno come Enrico Ferri, socialista, che crede, ma come molti nella società, che crede che il ruolo principale del manicomio sia luogo di custodia, cioè dovrebbe offrire una difesa per il resto della società. Quindi hai queste due visioni del ruolo del manicomio. E infatti quando guardiamo a San Clemente e a San Serolo vediamo ambedue questi ruoli. Per esempio gli statuti di San Clemente, cito solo una frase. Nel manicomio saranno accettate solamente le mentecate bisognevoli di custodia, pericolose a sé e dagli altri, e nocive alla morale e all'ordine pubblico. Già le parole usate danno un'idea e tutta la procedura che ruota intorno al ricovero dei malati, che coinvolge sindaci, sacerdoti, forze dell'ordine, è una procedura di forza quasi, di controllo. La gran parte dei malati pellagrosi, dei pazzi pellagrosi nei due manicomi veneziani, vengono rinviati, trasferiti dagli ospedali civici del Veneto. E trovo interessante che c'è una differenza tra uomini e donne, perché spesso gli uomini vengono mandati direttamente da casa, mentre le donne hanno già un'esperienza, come dire, istituzionale, perché vengono mandate e trasferite da altri ospedali civici. A cosa attribuire questa differenza? Il medico Andrea Verga ebbe, cito, il sospetto che se i pazzi si fanno più spesso recludere per le loro violenze, le pazze vengono più frequentemente sequestrate per gli scandali e le noie che recono. Un esempio è Lucia, Lucia M., una vedova anziana, e che cito dalla cartella clinica, che correva tutto il giorno per le vie e faceva atti osceni. Quindi c'è questa idea, nozione di scandalo. Ma il rapporto tra genere e pazia pellagrosa è di natura ancora più fondamentale, dato che la malattia colpisce di più le donne, e questo è un fatto importantissimo. è dovuto in parte alla maternità, all'allattamento, ma anche a prassi sociali, tipo dare cibi nutrienti, eventuali cibi nutrienti quando ci sono, di darli prima agli uomini della famiglia, cose che rendono le donne molto più vulnerabili, sia al pellagra, ma come conseguenza alla pazzia pellagrosa. Quando Santa F., una contadina cinquantenne, viene ricoverata a San Clemente nel 1886, per la terza volta nello spazio di tre anni, ha già dato vita a 17 figli, di cui 14 morti nel primo anno di vita. E c'è un altro modo di affrontare o di capire la natura della pazzia pellagrosa istituzionalizzata, ed è di fare un paragone tra i pazzi, come dire, regolari, ordinari e i pazzi pellagrosi, cioè che hanno queste malattie mentali dovute alla pellaga. Se guardiamo per esempio i mestieri, le professioni dei malati, bene, tra i pazzi regolari, ordinari, io non ho mai trovato un termine utile per descrivere questi malati non pellagrosi, comunque quasi la metà di questi sono artigiani, bottegai, operai, servi, e poi il numero molto più ridotto, ma anche ogni tanto un poliziotto, un soldato, un maestro di scuola. Solo un quarto, cioè meno di 25%, sono lavoratori agricoli. E la stessa cosa per le donne a San Clemente, molti sono etichettati come casalinghe, ma poche sono lavoratrici nell'agricoltura. E poi quando guardiamo alle origini geografiche di questi pazzi non pellagrosi, cioè regolari, molti vengono da Venezia, dalla città di Venezia. Anzi, quasi la metà vengono da Venezia, questo più o meno uguale per gli uomini e le donne. Ma la pazzia pellagrosa ribalta queste proporzioni, perché più di tre quarti dei malati di pazzia pellagrosa sono lavoratori agricoli, ma soprattutto poveri contadini e braccianti. Questo sempre secondo le descrizioni che ci vengono date nelle cartelle cliniche. e ci sono altri che sono artigiani, bottegai, operai, ma sono sempre molto di meno. E ci sono anche dei mendicanti tra questi. E poi quando guardiamo le origini geografiche dei pazzi pellagrosi, vediamo che non vengono quasi mai dalla città di Venezia, ma vengono dalla terraferma, dalle province della terraferma. E questo anche perché tutte le province contribuiscono al mantenimento di un certo numero di letti a San Servolo e a San Clemente, a secondo della popolazione delle province stesse. Ma è un costo, è un costo che aumenta. Per esempio, sappiamo che negli anni 90 dell'Ottocento il mantenimento dei pazzi pellagrosi ai due manicomi veneziani è la prima voce di spesa per la provincia di Treviso. Giusto per dare un'idea del costo di questa attività, di questo contributo. e sarà anche per questo, questo costo anche per risparmiare, che le autorità comunali mandano i malati a Venezia in dei convogli di pazzi di due o più persone. Così nel giugno del 1887 le autorità di Rovigo spediscono due malati marito e moglie Pietro e Rosa insieme a Venezia. Lui a San Servolo e lei a San Clemente. e la degenza di Rosa comunque dura poco, per fortuna, e cito dalla cartella sua, contribuì al miglioramento la notizia che suo marito è stato licenziato da San Servolo, ovvero ricoverato con la stessa forma mentale. Il paese dal quale provengono questo marito e moglie, Castel Bariano, in provincia di Rovigo, è la triste fonte di molti ricoveri manicomiali. Un padre e figlio erano stati, vengono mandati nello stesso convoglio qualche anno prima, nel 1882. La cartella clinica del padre Bortolo, lo vedi qui, descritto come pellagroso maniaco, e la cartella dà un'idea delle condizioni di vita. e cito Nel luogo di nascita e di residenza regna molto la pellagra e la malaria. L'attuale sua abitazione è umida, non penetra mai il sole dalle sue finestre. Bortolo è miserabile, debolissima la costituzione fisica, nutrizione deperita, vito esclusivo di polenta di frumentone. Di circa un anno accusa dolori al capo, al petto, al ventre, traballa continuamente, in modo che non si può lasciare solo, minaccia se stesso e gli altri. Ambe due i genitori di Bortolo erano stati pellagrosi a loro volta, come lo sono anche i figli di Bortolo. Questo è uno dei figli, il più grande, Rocco, che viene rinviato rinviato a San Servolo insieme al padre. E povero Rocco l'anno prima aveva sofferto di malaria, quindi uno di quei paesi soffriva sia di pellagro che di malaria. però una cosa è interessante è che tutti e due, padre e figlio, vengono dimessi dal manicomio, guariti, secondo la cartella, dopo appena tre mesi. e questo è un aspetto della pazzia pellagrosa, cioè la sua curabilità ed è un elemento che distingue anche la pazzia pellagrosa dalla pazzia normale, cioè non pellagrosa, cioè la capacità di guarire, di guarire, cioè la capacità dei medici di riportare la salute fisica e mentale ai pazienti. Per esempio Achille, Achille M, malato di mania religiosa dovuta alla pellagra, la cui condizione è talmente grave che il prefetto di Rovigo richiede il suo ricovero con un telegramma, tuttavia è già in piedi dopo poche settimane a San Servolo. Però abbiamo, ci dobbiamo fidare delle cartelle cliniche in questo senso, quindi bisogna a questo punto definire il concetto operativo di guarigione. È una definizione all'epoca molto funzionale, cioè indica il momento nel quale il paziente si rivela abbastanza sano da poter tornare alla sua vita lavorativa e sociale e da non porre più un rischio né a se stesso né agli altri. E quindi abbiamo visto il manicomio cerca anche con il suo spazio fisico e il suo ambiente sociale particolare di aiutare a di contribuire a questa cura. e già l'alimentazione ristoratrice, già un'alimentazione normale, normale tra virgolette, contribuisce alla guarigione dei malati. Il risultato questo è da un album, sono foto prese da un album comparativo e una serie di foto che potrebbe dire prima e dopo presi scattate al momento del ricovero poi al momento delle dimissioni. Sono foto molto ritoccate nel senso che sono preparate alcune hanno pure si sono si vestono bene insomma sono un po' teatrali queste foto. Però da un'idea del del concetto di guarigione cosa rappresentava per i medici di San Servolo. Ma volevo dire che quasi due terzi dei pazzi pellagrosi maschili rimangono meno di nove mesi a San Servolo. la pazia pellagrosa secondo il direttore di San Servolo cito si presenta sotto tutte le forme della pazia ma c'è un gruppo di malattie che accorpa mania monomania e frenosi che costituisce la forma più comune secondo le diagnosi rilasciate. Un po' di meno è un'altra diagnosi quello della malinconia o la depressione e poi un terzo elemento è costituito da termini tipo demenzia imbecilità e idiotismo. I medici che studiano la pellagra e la pazia pellagrosa i pellagrologi hanno in comune un'esperienza manicomiale un'esperienza professionale nei manicomi diciamo così perché è il sito privilegiato per lo studio della malattia e anche per poter osservare le varie fasi e anche provare nuove terapie però non significa che questi pellagrologi fossero d'accordo su le cause della pellagra e sulle cure anzi c'erano ok erano d'accordo su c'entrava la miseria chiaramente però come diceva il direttore di San Clemente Cesare Vigne la miseria c'è dappertutto nel mondo ma la pellagra no e continua Vigne dice tutte rovistate le possibili cagioni generatrici della pellagra sola immanchevole e quest'una esclusiva ed insufficiente alimentazione del contadino ma cosa vuol dire in questo periodo ci sono due tendenze due opzioni teoretiche per spiegare la causa della della pellagra e della pazzia pellagrosa o carenza alimentare o una specie di veleno di tossine che si sviluppa nel mais quindi da una parte Bonfigli abbiamo già citato una volta direttore del manicomio di Ferrara che teorizza come causa un'alimentazione limitata al consumo di mais in forma di polenta c'è qualche cosa in questa alimentazione in questa sussistenza che che manca c'è qualche cosa che in questa alimentazione che non fornisce al corpo nutrienti sufficienti però Bonfigli non riesce a dimostrare quale cosa manchi mentre Cesare Lombroso già medico forse il medico più famoso in assoluto in Italia in questo periodo che era anche stato direttore della parte manicomiale dell'ospedale di Pavia lui teorizza invece che la causa sia un veleno nel mais guasto o avvariato che i contadini consumano sono costretti a consumare quindi queste sono le due le due opzioni teoriche nell'epoca a cui i contemporanei aggiungono altri fattori più o meno importanti tipo il consumo di alcolici effetti ereditari per il sole forse le fatiche dure della vita in campagna e queste diverse teorie hanno pure l'esistenza di queste due opzioni anche un impatto sulle cure che vengono offerte nei manicomini ecco questa è un'illustrazione della farmacia di San Servolo che è importante perché rappresenta l'aspetto diciamo farmaceutico della cura che viene offerto perché per l'ombroso bastano i medicinali a guarire la pellagra le sostanze che secondo l'ombroso bastano a guarire questa malattia sono acido arsenico e acetato di piombo ecco stiamo parlando di velemi a un certo punto l'ombroso nel 1883 propone al direttore dell'ospizio per i pellagrosi a Moliano Veneto Costante Gris propone una specie di prova dice a Gris di prendere 40 pellagrosi ok qui non stiamo parlando di pazzi pellagrosi ma di pellagrosi propone a Gris di lasciare stare l'alimentazione cioè di dare solo l'alimentazione di prima normale non ristoratrice ma di dare ai pazienti soltanto questi suoi rimedi che sono vengono forniti dalla dall'azienda Carlo erba dopo cinque mesi di questa prova Gris vede che i suoi 40 pazienti stanno peggio di prima e quindi di sua propria iniziativa dice di lasciare stare da parte questi farmaceuti prodotti medicinali non riesco farmaci ecco farmaci e di dare a questi pazienti solo un'alimentazione ristoratrice quindi e poi i risultati straordinari Gris scrive all'ombroso tramite o per via di questa alimentazione ristoratrice e senza ricorrere a questi farmaci ho ottenuto risultati molto migliori a questo punto l'ombroso non scrive più a Gris e l'amicizia o la collaborazione si interrompe ecco ma giusto per darvi un'idea che c'erano diverse opzioni di cura c'è una forma di cura a cui partecipano a cui beneficiano si dice scusate l'italiano poi è stato un lungo viaggio ecco dicevo una forma di cura che quasi tutti i pazienti beh quasi tutti i pazienti vengono si può dire quasi obbligati a provare ed è l'ergoterapia cioè il lavoro abbiamo già detto di Domenico che lavora nell'orto per un breve periodo di tempo l'orto di San Servolo e questo è un tipo di lavoro che è senz'altro utile all'economia del manicomio ma soprattutto è utile secondo i medici dell'epoca al paziente la forza fisica ma anche perché i pazienti non si distraggono si concentrano su quello che fanno e in un certo senso focalizza la mente su quello che fanno ma c'è un'altra un altro fattore un altro elemento importante in questa cura ed è proprio il fatto che questi poveri pellagrosi sono quasi tutti contadini quindi la capacità l'abilità di lavorare nei campi nel manicomio dà l'idea che saranno tra poco pronti a uscire pronti alla dimissione quindi è una una fase importante della loro cura quindi a San Servolo questa ergoterapia consiste nel lavoro nei campi a San Clemente invece per le donne c'è una vera e propria fabbrica tessile qui possono lavorare qualcosa come 500 pazienti 500 donne è un paradosso forse è un triste paradosso che tra gli altri prodotti che faceva questa fabbrica ci sono le camicie di forza che vengono usati sia a San Clemente che a San Servolo quindi la volontà del malato di lavorare ma anche la capacità di farlo sono in qualche modo legate all'eventuale dimissione del manicomio del paziente e qui gli obiettivi dei medici malincomiali cioè il recupero della salute del paziente tramite la cura medica e l'alimentazione e il suo ritorno al lavoro si intrecciano con gli obiettivi dei familiari del paziente perché i familiari dipendono da lui o da lei e dal suo contributo per il mantenimento della famiglia quindi se i manicomi veneziani ma non solo quelli veneziani funzionano come una parte di un sistema di controllo sociale i malati e le loro famiglie sanno sfruttare le risorse che queste istruzioni offrano le risorse caritatevole le risorse pubbliche fa parte di una strategia di sopravvivenza fare ricoverare chi mantiene la famiglia sperando che sia per un periodo più o meno breve è un investimento nel futuro di quella famiglia anche se il ricovero rimane sempre una misura limite da fare solo nei casi più difficili perché è importante non vedere le famiglie come o passivi in questa procedura di ricovero d'agenza e dimissione ma i familiari ma anche i pazienti stessi partecipano attivamente in queste tre fasi e non è facile perché è sempre mediato da vari livelli di burocrazia giusto vi voglio dare giusto un esempio è il caso di una donna 26enne Maria affetta e cito dalla cartella affetto da ninfomania polimania chiassosa dovuta alla pellagra e in questo caso nel suo caso è suo padre che vuole disperatamente che sia dimessa da santo emente il 20 novembre di 1882 il sindaco di pedavena pedavena il paese originario di Maria scrive alle autorità di san d'urgenza perché il padre aveva già comprato i biglietti per la nave Francoforte che parte da Genova il 5 di dicembre per gli Stati Uniti ma la lettera del sindaco non serve a niente perché il dottor Brunetta di San Clemente la sua risposta è negativa dice osserva al padre che esporla esporre la Maria ora che è convalescente ai disagi di un viaggio così lungo non è prudente il padre insiste e quindi Maria viene finalmente dimessa il 14 di dicembre non so se ha perso la nave o no non viene scritto e non sappiamo neanche se Maria quindi fece questo viaggio lungo e arduo oltre l'oceano però il caso ci illustra anche questo rapporto un stretto rapporto che c'è nel Veneto tra la pellagra endemica e l'emigrazione di massa sono gli stessi decenni gli ultimi decenni dell'Ottocento tutti e due i fenomeni raggiungono un apice durante questo periodo due terzi dei pazzi pelagrosi vengono dimessi dai manicomi veneziani o guariti o come nel caso di Maria migliorati ma c'è un ma perché se le condizioni fisiche e mentali dei pazienti peggioravano il risultato era spesso la morte perché non solo la pellagra e la pazia pellagrosa colpivano più le donne che gli uomini come abbiamo visto ma le donne ne morivano di più la causa di morte più comune nei manicomi era la diarrea cronica che accompagnava la malattia dal suo inizio tra i pellagrosi le malattie gastrointestinali e debilitanti come la cacchessia erano responsabili per quasi la metà dei morti in manicomio anche se è molto di più tra le donne perché quasi il 60% tra le donne assentamente mentre il tipo 37% degli uomini a San Servolo ci sono ci sono altre malattie responsabili per la morte dei pazienti per le grossi nei manicomi tipo infezioni polmonari questo questo forse esacerbato dal sovraffollamento dei pazienti nei due manicomi ma vorrei parlare invece ora per concludere dei due terzi dei pazienti pellagrosi che vengono dimessi dai due manicomi come vengono reintegrati nei loro comuni d'origine e questo infatti rimane l'anello debole dell'intero sistema e innanzitutto c'era lo stigma che accompagnava tutti gli ex pazienti manicomiani qui c'è l'esempio di un pescatore di chioggia Antonio che si trova continuamente importunato con le parole matto di san servolo matto di san servolo mentre cammina per le strade lui chiede un'udienza con il pretore per denunciare questo dispetto ma viene subito licenziato e cito questo dalla cartella uscito e gli cominciò a volte alta a dire che la legge è uguale per tutti ma che egli non è trattato come sono trattati gli altri intervengono i carabinieri che lo portano all'ospedale di chioggia da dove viene poi rinviato a santi Giovanni e Paolo per essere infine riportato a san servolo dove racconta tutto il successo e nonostante avesse cito dalla cartella nonostante avesse buona memoria e sa esporre con esatezza e coordinazione le proprie idee soffrì cito di un grave dimagrimento e morì poi di pleurite la reintegrazione nella comunità di origine viene si complica da un secondo fattore e cioè che sì la pazzia pellagrosa è curabile come abbiamo visto però una volta che i pazienti o ex pazienti ormai tornano alla loro alimentazione di prima c'è sempre il rischio che ritorni la pellagra e la pazzia pellagrosa come questo commento scritto in fondo alla cartella clinica di Emilio nel 1880 e cito purtroppo ritornando in mezzo alla miseria in un tempo più o meno lungo lo vedremo di ritorno e questo questo problema delle recidive è più evidente nel caso di Francesca questa Francesca C che viene ricoverata più volte durante gli anni 80 a San Clemente potete vedere anche dalle foto oggi se guardiamo da piazza San Marco vediamo sia San Servolo che San Clemente sulle due isole hanno delle vedute stupende su Venezia è un effetto direi solo pittoresco non solo bellissimo ma calmante tranquillo anzi metto questa foto dal sito di San Clemente ora un albergo ho scelto questa foto perché mi sa che si vede anche San Servolo lì dalla finestra della stanza d'albergo stranamente nel sito di San Clemente non dice niente del suo passato di manicomio e quindi per noi dovrebbe essere un'esperienza bellissima stare in questi luoghi ma cerco di immaginare come poteva essere per i malati di allora che venivano spesso dai paesi di montagna lontani da Venezia forse era un'esperienza terrificante gente che non aveva mai visto il mare o comunque non la laguna venire traghettati verso queste due isole c'è qui quasi un doppio grado di separazione sia dalla terra ferma i paesi di origine ma sia dalla città lagunare stessa è quasi uno spazio altro che occupano i due manicomi veneziani però allo stesso tempo i due manicomi con il loro obiettivo di curare e di guarire tramite l'alimentazione l'uso dei farmaci l'ergoterapia non erano carceri e il concetto della fisicalità della pazzia si prestava alla cura alla guarigione della pazzia pellagrosa che rispondeva bene al regime alimentare ristoratrice no ristoratore e alle condizioni materiali poi dei manicomi stessi e quindi l'esperienza manicomiale della pellagra insegna che si può guarire e che quindi i manicomi non sono luoghi senza uscita sono istituti invece come dire a porte girevoli dai quali si può uscire ma forse porte girevoli anche in un senso negativo perché si può sempre rientrare come abbiamo visto nel caso di questa povera Francesca però voglio concludere con una nota positiva perché almeno da già dagli anni 90 dell'ottocento in poi la pellagra diminuisce notevolmente come diminuisce anche la pazzia pellagrosa con il miglioramento delle condizioni contadine e grazie della vostra pazienza del mio italiano che peggiora da minuto in minuto ecco e volevo di nuovo ringraziare Giglio perché lui ha fatto il lavoro sulla database soprattutto di cui tutte le cifre che vi ho presentato sono frutto del suo lavoro io ho fatto il lavoro più qualitativo leggendo le cartelle cliniche beh grazie di nuovo grazie mi sembra molto interessante quello che ci hai raccontato io avrei subito una domanda poi vorrei sapere se gli altri hanno delle domande da fare ma sappiamo qualcosa dell'alimentazione nel manicomio cioè cosa voleva dire correggere l'alimentazione che non andava bene che tipo di offerta il manicomio era in grado di dare sì anzi abbiamo quasi menu giorno per giorno volendo studiare queste cose quello che non sappiamo però è l'alimentazione che magari davano a certi pazienti cioè sicuramente l'alimentazione veniva gestito giorno per giorno per i casi più gravi però l'alimentazione di base era piuttosto ricca c'era molta carne spesso anche carne di cavallo queste cose qui però erano alimenti che davano forza secondo i criteri dell'epoca e c'era anche la polenta ecco però c'era c'era riso pasta e soprattutto pane e quindi sono tutti alimenti dovrei dire che contengono quello che manca nella polenta ossia l'acido nicotinico cioè l'acido nicotinico o niacina è presente nella polenta ma non è assimilabile dal corpo non è presente in una forma che il corpo riesce ad assimilare quindi non è la polenta in sé che faceva male anzi infatti se voi avete bevuto due caffè oggi c'è già il fabbisogno giornaliero di acido nicotinico in due caffè per dire che si trova dappertutto in molti alimenti quindi quello che mancava a questi poveri contadini era proprio la varietà la varietà degli alimenti e quindi io direi forse una cosa che vorrei enfatizzare vorrei sottolineare che anche secondo i criteri dell'epoca secondo le conoscenze dell'epoca tutti erano concordi che questa malattia era causata dall'uomo cioè era una malattia causata dalla società un po' come l'obesità per noi ecco nelle nostre società anche se l'obesità è molto più complessa come eziologia come causalità ma tutti erano concordi o gli pelagrologi erano concordi però non erano concordi sulle soluzioni da prendere ecco ma sicuramente già l'alimentazione che offriva all'ospedale e il manicomio contribuiva molto però rimaneva il problema della diarrea cronica e questo come dicevo se questi poveri pazienti non riuscivano a assimilare gli alimenti morivano chiede se c'è qualche informazione in più in merito all'azienda tessile penso quella che c'era all'interno dell'ospedale ci sarebbero senz'altro perché gli archivi di San Clemente e di San Servolo che sono tutti adesso tutti e due sull'isola di San Servolo sono ottimi sono sono cioè non manca di niente sono intatti e quindi su ogni aspetto per esempio noi a un certo punto abbiamo voluto fare un'indagine sull'uso della fotografia che già dagli anni 70 sulle cartelle cliniche appaiono le prime foto e ci sono i contratti con i fotografi quindi si riesce ad identificare chi erano perché avevano gli studi fotografici a Venezia uno mi ricordo era uno che faceva foto per i turisti le cartoline postali che si vendevano ai turisti a Venezia già negli anni 80 dell'800 e quindi sicuramente ci saranno anche informazioni sulla fabbrica tessile mi ricordo solo una cosa strana però questo secondo una descrizione di un visitatore uno psicologo australiano che fa un giro di tutti i manicomi d'Europa negli anni 90 dell'800 e descrive gli interni di San Clemente è nota come ci sono in fondo alla fabbrica tessile cioè quella foto che vi ho fatto vedere questo risponde lettamente ecco ecco la foto in fondo ma non si vedono c'erano le catene e quindi uno allora viene spontaneo chiedere ma era veramente l'ergoterapia una cosa volontaria perché se ci sono le catene c'è anche una foto che non ho fatto vi ho fatto vedere dell'interno della lavanderia di San Clemente e quella foto è interessante perché è piena di donne donne al lavoro sembra una foto fatta scattata dal vivo mentre queste foto sono si nota l'assenza di persone si nota per esempio l'ambiente ordinato pulito sicuramente non era così durante la piena attività però è una bella domanda ci sono tante ricerche come da fare ancora come anche quello di Donatella all'inizio sull'alimentazione veramente io adesso che sto facendo questo progetto sull'acqua mi veniva da volevo sapere come si rifornivano di acqua potabile perché prima degli anni 80 e l'arrivo dell'acquedotto non lo so ecco ma i documenti ci sarebbero e so che c'è un pozzo per esempio a San Servolo sì ed è una cisterna grande perché c'è la piazzetta abbastanza grande davanti alla chiesa ma di Sant'Emente non so assolutamente niente perché non ci sono mai stato l'unico modo per andarci è di andare a stare nell'albergo sì grazie